I primi sopralluoghi danno il via ai lavori di allestimento del cantiere per l'ultimo stralcio di interventi in programma al Teatro della Sena. È la tappa finale del percorso che porterà la piccola Fenice alla piena utilizzabilità, anche grazie alla costruzione dell'ascensore esterno, per un investimento che supera il 1.300.000 euro. La conclusione dei lavori, se non vi saranno imprevisti i particolari, è prevista per la fine di quest'anno. È un momento molto importante per la città di Feltre, l'ultimo stralcio per il completamento del nostro teatro, un gioiello per tutta la città. Ovviamente la canterizzazione è una canterizzazione importante che quindi comporterà qualche disagio. Per i cittadini ci saranno dei percorsi pedonali in sicurezza per raggiungere il municipio e anche dallo sbarco dell'ascensore per arrivare verso la piazzetta. Ovviamente anche per gli abitanti del centro storico bisognerà fare un po' di prudenza perché ci saranno alcune strade chiuse e il cantiere durerà tanto, nel senso che durerà un anno alla fine, fino a ottobre, novembre, prossimo anno, però bisognerà darsi una mano tutti insieme per apprezzare il risultato finale. Si potrà arrivare al municipio da un passaggio pedonale in via Mezzaterra, mentre le auto potranno passare in via Lusa. In via Beccherie invece si andrà soltanto a piedi.